Mi fai il basso originale che hai fatto dallo studio alla Titania nel 1983 di Dolce Vita con il Mini Mug? Sì, il Mini Mug. Eccolo qua. Adesso ci provo a rifarlo. Dai, dai, che lo fai bene. Era il C bemolto. Era il C bemolto. Però adesso facciamo il basso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti